Una situazione che già pesava parecchio sul territorio cremonese, che con la crisi legata alla pandemia del covid-19 è nettamente peggiorata. Per dare l'esame teorico della patente di guida a Cremona è necessario attendere in media tre mesi, quattro mesi invece per poter dare quello pratico. A fine giugno i fogli rosa attivi erano 2050, con altrettante persone in attesa di poter dare il proprio esame di guida. Ancora più lunghe le attese per le patenti professionali. Si è passati dagli 84 esami giornalieri che venivano fatti in una seduta agli attuali 40 e quindi c'è una riduzione drastica del 50%. Grazie alla collaborazione però tra l'associazione Unasca e la motorizzazione di Cremona siamo riusciti un pochino a tamponare, però oltre al covid c'è stato anche il problema di alcuni pensionamenti. Le tempistiche si attestano bene o male sui tre mesi per quanto riguarda gli esami teorici e tre o quattro mesi per quanto riguarda gli esami pratici. A livello statistico alla data del 22 giugno c'erano circa 2050 fogli rosa in attesa di esame pratico. Sul fronte delle patenti professionali, quelle tanto per capirci degli autocarri e degli autobus, la situazione è molto peggiore rispetto a quella delle patenti B perché a Cremona manca un ingegnere da ormai diversi anni, c'è solo un tecnico per quanto riguarda le revisioni dei mezzi pesanti. Se prima bastavano sei mesi per svolgere l'esame della patente superiore, adesso questi sei mesi non bastano più e fortunatamente ci sono le proroghe che hanno spostato le scadenze al 31 di marzo, ma il problema da settembre diventerà molto più grave. Il problema è che le imprese sono alla disperata ricerca di autisti che non si trovano proprio perché i candidati ci sono ma non si riescono a sostenere gli esami. La situazione con i rallentamenti e le ferie di agosto è destinata a peggiorare e a diventare ancora più difficile da ripristinare.